Pescara segna un altro primato nelle buone pratiche per quel che concerne la micromobilità urbana moderna nel segno della sostenibilità ambientale, un progetto fortemente perseguito dall'amministrazione comunale. Sono infatti 250 le biciclette a pedalata assistita che la società Bit Mobility a cui l'amministrazione ha affidato il servizio immetterà sulle strade pescaresi nei prossimi giorni. In questo modo si consolida il progetto di mobilità condivisa che il comune sta portando avanti ormai da due anni senza alcun costo per l'ente. I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina in Largo Chiola dinanzi a Palazzo di Città dall'assessore comunale alla mobilità e ai trasporti Luigi Albore Mascia al fianco dei responsabili di sviluppo operativo Bit Mobility. Arrivano per la prima volta nella storia della città anche le biciclette a pedalata assistita con lo stesso concetto dei monopattini elettrici quello che funziona cioè il concetto del free floating cioè dell'uso libero della bicicletta con la possibilità sempre educatamente di poter poi utilizzare la bicicletta e lasciarla in maniera educata adeguata ed è una raccomandazione che io faccio ai nostri concittadini a tutti i fruitori delle biciclette elettriche. 250 biciclette contrattualmente per tre anni dal 30 di giugno. Sono biciclette di elevata tecnologia che hanno delle prestazioni davvero ragguardevoli che sono utilizzate nelle più grandi città italiane anche nelle migliori città europee e che danno la possibilità affiancandosi ai monopattini agli scooter elettrici davvero di avere una mobilità alternativa tecnologica ma soprattutto ecocompatibile. Le biciclette avranno dei punti di lancio in tutta la città quindi anche nella zona dei colli proprio perché le biciclette a pedalata assistita consentiranno finalmente anche di infrangere il tabù dell'uso della bicicletta anche nelle zone più alte di Pescara. Un euro allo sblocco e poi pochi centesimi al minuto e con degli abbonamenti che stiamo studiando ancora in questi giorni vantaggiosissimi in particolare rivolti a studenti e dipendenti. Siamo ormai ragionando in un'ottica di aria vasta per cui sono in contatto sia con l'amministrazione di Francavilla al mare che con l'amministrazione di Montesilvano proprio per rendere simmetrico l'utilizzo delle biciclette elettriche e tra qualche settimana anche dei monopattini in modo tale che la corsa non termini al confine con Montesilvano al confine con Francavilla ma l'utilizzatore possa anche godere di queste superfici e di questi spazi cittadini che non sono strettamente individuabili con la città di Pescara.